Il comando della Polizia Municipale di Ponte Cagnano-Faiano ha inviato una diffida ad RFI Ferrovie dello Stato affinché provveda ad un immediato intervento di riparazione delle sbarre del passaggio a livello di Via Milano, che in modo ricorrente sono rimaste sospese anche durante il passaggio dei treni. L'ultimo caso in ordine di tempo si è verificato qualche giorno fa, quando le barriere si sono alzate durante il passaggio del treno, mettendo a rischio l'incolumità dei presenti.